Sono stati i nuovi chirichetti della parrocchia di Santa Francesca Cabrini a Lodi, a suonare a distese le nuove campane della Chiesa Benedette Domenica Mattina dal Vescovo Maurizio Malvestiti, 5 nuove campane realizzate dalla ditta Trebbino di Uscio in provincia di Genova e che vanno a sostituire quelle vecchie poste sul piccolo campanile dal parroco di allora Don Luigi Maggi, ricorrendo quest'anno il sessantesimo anniversario della consacrazione. Le nuove campane, contrariamente a quanto cadeva per le precedenti, sono state elettrificate e quindi non verranno più suonate manualmente. Secondo tradizione queste campane sono state dedicate e poste in modo verticale dalla più piccola in alto, la più grande in basso. Si tratta di un concerto in Re bemolle dove la prima campana è dedicata alla Santissima Trinità, la nota musicale è il La bemolle e il peso è di 54 kg, mentre la seconda campana è dedicata alla Sacra Famiglia, la sua nota musicale è il Sol. La terza è quella della Misericordia, a ricordo del giubileo straordinario di quest'anno e ha come nota musicale il Fa. Poi la campana dedicata a San Bassiano. Questa è la sola delle tre storiche campane a essere stata ricollocata dopo un'operazione di ripulitura e restauro, la nota musicale è il Mi bemolle. Infine la campana dedicata a Santa Francesca Cabrini, la cui nota musicale è il Re bemolle. Il Vescovo di Lodi, dopo aver benedetto le campane e averle incensate, ha partecipato alla processione d'ingresso e inizio celebrazione per la Messa della Domenica delle Palme. All'Assemblea, riunita nella Chiesa parrocchiale, ha rivolto un breve indirizzo di saluto, sottolineando la condivisione per l'inizio della Settimana Santa, la benedizione delle nuove campane ed ha ringraziato tutti i presenti e quanti hanno sostenuto la nuova realizzazione con i propri sacrifici. Siate sempre benefattori generosi della parrocchia che è vostra, aggiunto Monsignor Malvestiti, anche il suono delle campane concorre all'armonia della comunione e sia espressione gioiosa di fede ma anche di solidarietà.